Grazie a tutti. Grazie a tutti. La sua figura graviosa di eroe che combatte il male sin dagli albori del cristianesimo dall'Oriente bizantino si diffuse in Italia e viene riconosciuto da tutte le religioni. E' rappresentato con un guerriero assurgendo al massimo simbolo di difensore della fede cristiana e comandante delle milizie cinesi per aver difeso appunto la fede.